Non avete. Replica colpo su colpo la giunta comunale di Chieti agli attacchi giudiziari sul progetto del parcheggio del terminal bus di via Gran Sasso. Se Walter De Cesare, assessore all'urbanistica e agli affari legali del comune, preannuncia una denuncia penale contro la Dico, la società che attraverso i suoi legali ha diffidato il sindaco a mandare avanti il progetto, contemporaneamente, assieme all'assessore ai lavori pubblici Luigi Febbo, smonta anche il parallelo esposto presentato dalla minoranza di centrodestra. Sul piano giuridico, ha spiegato De Cesare, è vero che il termine biennale eccepito dalla minoranza è trascorso, ma si trattava di un termine ordinatorio e non perentorio. Dal punto di vista della valutazione finanziaria, inoltre, tutto in regola, come confermato anche da una valutazione al di sopra delle parti, quella dell'unità tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo conferma anche di ritorno proprio da Roma l'assessore Luigi Febbo. Noi siamo tranquilli e questo evidenzia come loro ogni volta fanno degli esposti, di fatto denunciano la loro incapacità negli scorsi dieci anni di amministrare. Stiamo facendo una cosa strategica, loro in quattro anni non hanno mai fatto una proposta per questa città, hanno solo cercato di evitare che questa città finalmente riacquistasse un ruolo importante come capoluogo di provincia. Gli atti sono a posto, sono conformi alla normativa vigente e ribadisco un'altra volta perché sia chiaro, adesso la pubblica amministrazione deve dichiarare pubblico interesse, poi va a una gara pubblica, una gara europea dove daremo maggior risalto possibile perché più concorrendi ci saranno e più ci sarà un vandaggio da parte dell'ente. In ogni caso, ha concluso De Cesare, siamo pronti a diffidare ogni illazione, come nell'esposto della minoranza, circa un fantomatico già esistente piano economico-finanziario per il project financing dell'Opera. La procedura sarà limpida e trasparente, di pubblica evidenza, sarà il mercato, la concorrenza tra le varie proposte che giungeranno, a far emergere la più vantaggiosa per il Comune di Chieti.